Buonasera, sono Lucia Lapacciano, e questa è la mia traduzione dal materano del dialogo tra Lucignolo e Pinocchio. E' la mia traduzione dal materano del rete. Tutti i tuoi! Tutti i tuoi! E ci sono le stesse malattie. C'è un po' di casa, ma non piacerebbe il giugno? Vabbè, che è tutto caro. Ma fai vedere un raggio di tavola. E come non. Ma però prima voglio vedere che ero tavola, che ero Pinacchia. E non, prima di essere tu. E non è bello mio. Prima tu e poi io. E vabbè, dove sei la rupe, alias burattino. Facciamo un po' prima, come facciamo la macchina. Sentiamo questo po'. Leviamo tutti i due in zem o qua poi da un giro. C'è due accetto? Vabbè, accetto. Allora, attendo. E Pinacchia ha cominciato a prendere la voce alta. Un, due, tre. Alla parà e le tre, tutti i due ognuno. Pugliorno che a pedra d'anghepe e la menor ninoria. E allora si vede una scena che sembrava possibile una nera veramente. Sì ci dice, eh? Che Pinacchia e l'ucigna. Quando si vedono, che avevano avuto la stessa disgrazia, e invece di rimanere mortificata e abbattata, anche un giorno ha tutto il cuore sul racchio, che avevano crescita a sé preppi. E dopo che avevano tutto, da tutto il cuore, e a stamone si facciamo una bella risetta. Grazie. Grazie.